Riprendiamo la diretta. Stanno rientrando le squadre in campo per il secondo tempo. Non c'era qualcuno che non lo sapeva? Già dall'inizio? Solo qualche coglione di Alassio non lo sapeva. Certo. L'essandro come è la del primo? Io di 5 anni non esiste. Poi noi eravamo a Andorra quando abbiamo fatto la maglia del sole. Eravamo a Andorra e siamo andati via perché c'era lui. Non si muoveva bene la storia come era. Il problema è che ci ha fatto un danno della madre. Sì. Sì. Grazie a tutti 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 No? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti